Prima Radio Adesso vogliamo dedicare un po' di minuti a conoscere in dettaglio una professione, un lavoro che per molti ancora non è riconosciuto come tale e che con l'avvicinarsi della bella stagione, diciamo che attira le attenzioni di tanti giovani o magari fa frullare per la testa l'idea, dice ma perché non mi vado a fare una stagione in un villaggio come animatore? Ne parliamo con gli amici della Peter Pan Animazione. Buongiorno a Monica e a Danny, buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Peter Pan Animazione, prima di parlare appunto della vostra struttura, voi siete referenti per la Sicilia, responsabili per la Sicilia di un'azienda nazionale, giusto Danny? Sì sì, siamo appunto i referenti per tutta la Sicilia per quanto riguarda le selezioni e la formazione dei ragazzi che poi quest'estate lavoreranno nei nostri villaggi in Italia e all'estero. Partiamo dal fatto che chi fa adesso il selezionatore o l'istruttore o insegna agli altri a fare animazione ne ha fatta già tanta di animazione, quanti Danny? Tanti, troppi, 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 troppi ma non sono mai abbastanza. Io ho iniziato prima però eh? Eh vabbè cominciamo a rivendicare. Allora diamo i numeri. Diciamo che noi ci siamo conosciuti nel 98 e già avevamo un po' di anni di esperienza, quindi insomma mi sono passati di anni. Allora ma diamo con preciso, il tuo primo villaggio è iniziato nel 94? Dove? 94 ero in vacanza a Dalaman in Turchia, un villaggio Valtur meraviglioso dove là ho conosciuto questo mondo dell'animazione che sono rimasto affascinato e parlando con un ragazzo dove ogni mattina andava a fare tiro con l'arco, questo ragazzo giusto giusto aveva dei problemi familiari, doveva rientrare a casa e mi disse ma perché non parliamo col capovillaggio e gli chiedi se vuoi rimanere visto che sei bravo a fare tiro con l'arco? E così parlai col capovillaggio, mi fece rimanere là 20 giorni perché stava finendo la stagione e da lì poi ho chiamato caso e ho detto non torno più, ciao e da lì ho iniziato. E si è aperto un mondo ovviamente. Marisa era felice, la sua mamma. Invece Monica tu che anno era? Io ho iniziato nel 92 a Città del Mare, poi ho fatto anche Galampiso che si trova a San Vitoro Capo, quindi tanti anni d'animazione, è sempre stata una mia grandissima voglia proprio di fare questo lavoro, ho studiato perché comunque ho finito, mi sono diplomata e diciamo contestualmente ho fatto l'università e anche lavoravo nei villaggi. Faccevi anche quelle invernali? Ho fatto soltanto un anno di invernale, però siccome io amo il mare ho detto vabbè facciamo un anno e via, basta. Ok, pensa che quell'anno scusa, pensa che quell'anno che ci hanno appunto, siamo andati a fare la stagione invernale, noi eravamo alle Maldive, a fare la stagione alle Maldive e ci è arrivata questa bellissima chiamata, ragazzi dovete rientrare perché c'è da fare la stagione invernale, eravamo stati richiesti comunque dalla direzione, quindi insomma un villaggio molto bello, quindi siamo passati dalle Maldive alla montagna. Ecco se è stato questo il mio trauma, però il bello del lavoro dell'animazione che comunque lo ricordo, lo sottolineo, è un lavoro ed è faticoso, lo dico anche perché ne ho vissuto qualche mese, non è poi così come dire appunto leggero per come si pensa, magari uno pensa vabbè ok vai a fare l'animazione, chissà ti puoi fare le vacanze, magari c'è il solito luogo comune, vai a cuccare, no? Non è così, non è così anche perché bisogna essere proprio bravi a cuccare, ma devo dire che ormai i tempi sono anche cambiati, è cambiata la clientela, quindi ormai siamo tutti un po' così esauriti e quindi è molto più difficile coinvolgere, tutti sanno che cos'è ormai il villaggio, hanno visto animazioni da tutti i lati, da tutte le parti, Ormai conoscono il gioco aperitivo, il gioco caffè, le stesse cose e quindi ci dobbiamo sempre reinventare e quindi la gente anche un po' è stufa, nonostante è stufa va in villaggio perché comunque trova per i figli soprattutto, infatti ormai la clientela e il nostro lavoro è concentrato sulle famiglie e sui bambini che sono la prima cosa importante da seguire, E quindi la nostra selezione, le nostre ricerche, i nostri ragazzi sono fatte in maniera tale appunto di trovare personale in gamba, capace, serio, soprattutto appunto, ritornando al discorso, non è una passeggiata proprio per questo motivo, perché i genitori quando arrivano e ti lanciano il bambino, una volta li lanciavano perché non vedevano, adesso stanno un po' attenti a chi devono lasciare i propri bambini, come è giusto che sia. E noi da genitori capiamo un po' questa esigenza, però adesso rispetto a tanti anni fa è cambiato, a parte il mondo, è cambiato il fatto che la gente arriva al villaggio ma è sempre perennemente connessa e c'è i dispositivi, gli smartphone in mano, quindi mi immagino io adesso che anche il lavoro dell'animatore è un po' reso più difficile da queste distrazioni. Sì, diciamo che il lavoro dell'animatore è difficile, adesso come è cambiata la clientela sono cambiati anche i ragazzi che vogliono fare questo lavoro, mettono davanti prima quanto mi dai, quanto guadagno, non c'è prima il fatto di voler fare un'esperienza e soprattutto farsi le ossa lavorando con la gente, perché lavorare con la gente già ti dà tanta possibilità per poi un giorno fare un lavoro anche più remunerativo. E' una palestra, è una palestra, quindi è bene sì, i ragazzi devono essere pagati, devono avere comunque tutto in maniera tale da poter star bene sia a livello logistico che anche economico, però viene visto sempre un po' così, cioè il quanto mi dai già ti crea quella situazione un po' più come se ci fosse un muro davanti, invece bisogna prendere questa esperienza come un'esperienza soprattutto di vita. Che poi lo è. Assolutamente perché devi comunque condividere la vita con i tuoi colleghi, quindi non è che vai lì timbri cartellino e vai via, ci devi dormire, ci devi mangiare, ti innamori, ti litighi, devi lavorare, fai le prove fino a tardi per gli spettacoli, quindi bisogna essere bravi anche a gestire il gruppo. Assolutamente. E poi devi essere bravo ad avere qualcosa in più proprio per distogliere l'ospite che sta sotto l'ombrellone e che appena vede arrivare un animatore si nasconde, scappa perché sa che magari lo va a disturbare ed è preso dal suo bel telefonino. E invece ecco la bravura adesso di un animatore e dello staff in generale è quello che noi comunque vogliamo dai nostri ragazzi è proprio quello di non disturbare e quindi riuscire ad accattivare, a motivare insomma l'ospite a lasciare quel telefonino e a venire a fare un gioco o un momento di divertimento. Tanta leadership. Assolutamente, quello è fondamentale. Dicevo prima è una palestra perché alla fine, ok, al di là dell'aspetto ludico, chiamiamolo così, ti vai a fare un periodo magari diverso rispetto a quello che hai lasciato perché generalmente il periodo dell'animazione, i ragazzi partono dall'animazione, è finita la scuola, è finito il periodo diciamo del liceo, serve anche come palestra di vita perché impari tantissimo, è un'esperienza che arricchisce e che a volte ti cambia la vita. Assolutamente sì e poi... A noi l'ha cambiata. A me soprattutto e comunque no, sì perché gli ospiti ormai oggi sono veramente difficili quindi si incontra tutto il mondo dentro un villaggio dal bello al brutto al simpatico all'antipatico e quindi... Ma quell'esperienza ti servirà anche per un altro lavoro che farai domani. Assolutamente sì, il fatto di potersi già da ragazzino, diciottenne, già dover così confrontarsi con persone adulte perché poi nel villaggio non è che parli solo con il ragazzino della tua età. Ti dovrai confrontare con ragazzi e persone più grandi e quindi... Non do dire a quella persona lì che cosa... E invece già è un motivo anche per relazionarsi. Anche solo dover andare a pranzo e a cena con persone che non conosce quindi... In villaggio no, funziona così, il ristorante, l'animazione, gli animatori vanno a mangiare con gli ospiti, no? Ma c'è ancora la diffidenza da parte magari dei genitori, dei ragazzi che vengono a fare animazione e dire ma che fai, ma che devi fare, lascia stare... Sì, sì. Dico da una parte lo posso anche capire perché purtroppo se ne sentono dire di cotte e di crude su quello che è anche esperienze brutte vissute da ragazzi stessi perché magari vanno a lavorare in posti dove non mangiavano o dormivano in posti veramente... Tuguri. Tuguri e queste cose noi le abbiamo vissute perché siamo della vecchia scuola e le abbiamo vissute e quindi adesso invece no, adesso le cose stanno cambiando, è giusto che cambino e noi come Peter Pan ci teniamo, noi non prendiamo villaggi proprio perché magari andiamo a vedere dove devono dormire i ragazzi e preferiamo non prendere un villaggio perché non sono all'altezza di situazione Perché poi giustamente il ragazzo quando arriva in villaggio si fanno brutte figure e non va bene, ecco quindi già la professionalità di un'azienda si vede anche da questo ed è fondamentale Nel gran mattino sono ancora con noi Danny Mazzoli e Monica Acello della Peter Pan Animazione, sono i referenti per la Sicilia, stiamo parlando di questa bellissima professione che in tanti ragazzi, magari proprio qualcuno che in questo momento all'ascolto ha provato nella sua vita e sa cosa significa fare un periodo di animazione nei villaggi, lavorare a contatto con le persone, vivere questa esperienza Altamente formativa, lo dicevamo prima, e che sono adesso a caccia di nuove figure da inserire, no Danny? Sì sì, sono aperte tutte le selezioni appunto per ricoprire tutti i ruoli che sono nei nostri staff, che non sono soltanto i ruoli quelli penso conosciuti un po' da tutti Ricordiamoli Partiamo dai bambini, quindi la ricerca dei ragazzi addetti ai bambini, dai mini club, young club, perché ormai si prendono tutte le fasce dei bambini fino ai ragazzi un po' più grandi E poi tutte le figure sportive, quindi gli animatori sportivi da tiro con l'arco, istruttori canoa, istruttori tennis, istruttori calcio, tutto quello che riguarda il fitness, quindi ragazzi che sono così addette a tutte le lezioni di fitness che si fanno nei villaggi e nelle palestre naturalmente E poi scenografi, tecnici suono, luci, che sono delle figure fondamentali per la vita del villaggio, soprattutto nei nostri villaggi, villaggi abbastanza molto grandi dove si fanno spettacoli di un certo livello, quindi musical, quindi servono questi tecnici che siano in grado appunto di Scenografi E poi tante altre figure legate anche al mondo dei negozi, perché noi abbiamo in tutti i nostri villaggi dei negozi, dei bazar dove appunto abbiamo bisogno di ragazze commesse, responsabili bazar, quindi sono ragazze dove gli viene messo a disposizione un negozio E lo devono gestire E lo devono gestire, quindi anche là poi ci saranno altre formazioni che faremo noi come azienda a queste ragazze che svolgeranno questi ruoli, i ruoli di hostess e di steward Che sono assistenti anche alla vigilanza dei villaggi, forniamo questa tipologia di lavoro dove i ragazzi stanno proprio al check in iniziale, proprio all'ingresso del villaggio dove appunto svolgono un ruolo molto importante, proprio l'arrivo dell'ospite, loro sono i primi che gli fanno l'accoglienza E a volte può essere anche decisivo, perché se mi fai già subito una prima impressione positiva, è ciò che hai fatto Assolutamente sì L'imprinting Esatto E quindi il nostro biglietto da visita è sicuramente questo, insomma l'immagine, l'educazione Coreografi, ballerini Sì sì, l'hai ricordato prima, quindi tutte le figure riguardano un po' il mondo dello spettacolo, dagli scenografi fino ai ballerini, quindi tutti i tecnici Poi anche i responsabili Assistenti bagnanti Responsabili, quindi capo animazione, capo equip E poi, scusa se ti interrompo, lo dico, abbiamo una struttura molto molto bella qua in provincia di Palermo, a Cinisi Quindi una struttura importante che collabora con un grossissimo tour operator francese E quindi siamo alla ricerca di ragazzi che parlano bene il francese Hai anticipato la mia domanda, quali sono i requisiti? Uno ce l'hai appena detto Per la Sicilia in particolare, questo villaggio è richiesto un buon francese, quindi siamo alla ricerca di ragazzi che sappiano parlare il francese Poi i ruoli si andranno a valutare nei nostri giorni di stage che poi magari ne parleremo dopo Dopo, e quindi ecco il francese e poi abbiamo anche altre strutture in giro per l'Italia e all'estero dove è richiesto l'inglese Allora, diciamo prima, attitudini, intanto voglia, voglia di fare questo lavoro, quindi e soprattutto di farlo con la gente Di stare con le persone, non annoiarsi con la gente e divertirsi pure Quindi una passione che si trasforma in un lavoro E se poi un lavoro viene fatto con passione Non è più un lavoro, è amore Non è più un lavoro, è amore, infatti ho i brividi E poi insomma fare un lavoro dove si sta in pantaloncini, magliette, costume, abbronzati Insomma, e tutti ti chiedono facciamo una foto, un autografo, insomma Sì, diventi un po' una diva in quel momento Sì, chiaro, chiaro Allora, però c'è un aspetto, parliamo soprattutto di qualcosa rivolto ai giovani Ma per forza devono farlo solo i giovani, l'animatore? No, assolutamente no Anche perché se no noi ci possiamo sotterrare Ormai siamo datati No, assolutamente no, anzi proprio questo è il punto Insomma, noi cerchiamo anche gente più grande Quindi abbiamo scritto dai 18 anni Noi prendiamo anche ragazzini più giovani, 17 anni Noi lavoriamo con le scuole dove facciamo l'alternanza scuola-lavoro Quindi già abbiamo anche ragazzini giovani che approcciano A questo mondo facendo un percorso appunto con la scuola Però cerchiamo anche ragazzi più grandi, più responsabili Anche perché ricoprire ruoli come dicevo prima Assistenti alla vigilanza piuttosto che Può gestire un bazar Un bazar, certamente Ci vuole un po' di testa in più Esattamente Sicuramente Parliamo dello stagio, quindi fra qualche giorno c'è un'occasione Avete allestito una giornata per proprio reclutare i nuovi animatori Sì, tutti i ragazzi che naturalmente sono interessati Che manderanno il curriculum, potranno chiamare, visitare il sito e quant'altro Posso ricordare il curriculum siciliachiocciolaiviaggidipeterpan.net Ecco, allora sottolineiamo siciliachiocciolaiviaggidipeterpan.net Ok, spediteli il curriculum Possono andare direttamente sul nostro sito Anche lì si può compilare il form del curriculum Come si svolgerà lo stage? Lo stage saranno tre giorni Tre giorni a Torre Artale In provincia Trabia, in provincia di Palermo 22, 23, 24 febbraio Quindi prossima settimana Dove appunto in questi tre giorni ci sarà sia la formazione Che è molto importante Perché là i ragazzi intanto verranno a conoscenza dell'azienda Che mi sembra il minimo Sapere con chi dovrò andare a lavorare E quindi noi ci teniamo in modo particolare a questo fattore E quindi là faremo questi tre giorni Dove formeremo Anche se tre giorni sono pochi Ma daremo le basi per far capire Quello che stiamo dicendo oggi Perché poi il lavoro si impara facendo Esatto Che è un lavoro serio E che ci sono tante tante regole Da sostenere, da mantenere E quindi li metteremo alla prova Quindi capiremo subito chi riuscirà a fare Per me sì, tu sei fuori Tu sei fuori Però ecco Le regole basi Le troveranno in qualsiasi altro lavoro Andranno a fare Anche i ragazzi timidi Possono fare Non bisogna mica essere giullari Assolutamente E quindi lì andremo a vedere appunto Quanto uno è serio Quindi alla puntualità All'immagine All'educazione Che un ragazzo ha Poi ci sarà tutta la parte Quella bella, divertente Dove ogni ragazzo Infatti noi lo chiamiamo Talent Lab Proprio per questo Perché ognuno Metterà in mostra Quello che sa fare Quello che non sa fare E poi noi alla fine di tre giorni Insomma daremo un risponso a questi ragazzi Con la speranza di poterli a tutti quanti fare una bella proposta di lavoro Certo E allora andate su Iviaggi di Peter Pan Punto net Trovate tutte le informazioni Anche relativa a questo stage Come inviare il curriculum Come si dice in questi casi In bocca al lupo ragazzi Cioè Detto da uno che un po' l'ha fatto Non perdetevi questa occasione Perché ne vale veramente Senti la verità Vuoi venire? No ormai no Perché come io Sei vecchio Come voi Esatto Come voi Superate una fase Diciamo che preferisci istruire qualcun altro Sì No perché ne hai visto talmente tante Che poi Magari rischieresti di perdere Di perdere smacco Certo Ok Siamo anche sul sito di Mediagol Sì Se volete andare Cliccate sui banner Peter Pan E là c'è un articolo dove C'è scritto proprio tutto Per mandare il curriculum Grazie Grazie a voi Grazie Monica Grazie Danny Grazie Buona giornata Buona stagione Grazie Alla prossima Ciao